Cari telespettatori, bentornati su Medicina Confronto. Questa è una puntata molto particolare e anche molto interessante. Spero che colpisca non solo la vostra immaginazione, ma anche qualche cosa di voi che è dentro di voi e che tolga determinate paure ancestrali che abbiamo. Oggi parliamo di esperienze dall'aldilà, vediamo il confine dell'aldilà, esperienze di premorte. Perché parliamo di questo? Davanti a me un grande ospite, Enrico Facco. Il professor Facco è un professore dell'Università di Padova, è anestesista rianimatore, ci unisce una grande confidenza e una grande consuetudine perché siamo stati insieme rianimatori nella struttura clinico-ospedaliera di Padova e abbiamo avuto modo di conoscerci reciprocamente, ma soprattutto ho avuto modo di testimoniare, e questo lo testimone volentieri a voi tutti in pubblico, testimoniare la profonda capacità scientifica di introspezione dell'Enrico Facco, perché Enrico Facco a un certo punto non contento di ciò che vede, di ciò che riscontra, di ciò che ha studiato e di ciò che vede in letteratura, non si confronta solo con gli altri, non si confronta con le esperienze altrui, ma va a verificare. È stato anche destinatario di un premio, mi pare, di ricerca neurologica, ti sei anche specializzato in neurologia clinica. Non premi di ricerca neurologica, ma... Non premi. Ti sei fatto, no, hai fatto delle profonde ricerche in neurologia... In ambito neurofisiologico. ...e poi hai fatto anche altri studi che sono serviti nel momento in cui partecipavamo al Piano Nazionale Trapianti, nella fase prodromica, sugli studi sulla morte cerebrale, sulla diagnostica di morte cerebrale, sulla certezza di morte, per dar mano ai tecnici di avere determinati strumenti. Quindi su tutte queste cose hai dato qualche cosa di tuo, di un'impronta. Oggi parliamo ai confini dell'aldilà. Perché sei qui? Intanto sei qui per raccontarci le tue esperienze e per i nostri telespettatori che su questo canale, che è il canale dedicato alla sanità, e sul TV7, che è il nostro editore, devi raccontare alcune cose particolari. Io qui in mano ho un libro. È un libro di Enrico Facco che parla di esperienze di premorte, dice scienza e coscienza, ai confini tra fisica e metafisica. Noi adesso, questo è un libro però non difficile da leggere, pur essendo scritto da un tecnico, è un libro che può essere letto da chiunque perché è spiegato molto bene, si arriva facilmente fino in fondo, non costa nemmeno molto, il prezzo di copertine è anche molto abbordabile perché non ha un prezzo da libro scientifico, ma un prezzo un po' da romanzo con contenuto scientifico. Però non è il romanzo della vita, ma è la vita che si fa romanzo attraverso la scienza che non viene riconosciuta come scienza, ma esperienza che viene così tramutata in esperienze quasi divinatorie o allucinogene. O di quelle che sono le stanze un po' più misteriose della mente che ci accompagnano poi da sempre. Conosciamo noi stessi, è la nostra fondamenta. Esatto, fondamentalmente il problema è quello. Adesso io ho lanciato il libro, però il libro ha vari passi, invece che parlare subito delle esperienze parliamo tra scienza e vita, allora questo cervello, ed è questo che vorrei che raccontassi ai nostri telespettatori. Grazie di essere qui. Bene, da che cosa vuoi che partiamo? Parliamo della coscienza e l'incoscienza, la conoscenza e l'incoscienza. Allora, direi che il problema è vastissimo e potremmo parlarne credo da qua fino a Natale se volessimo sviscerarlo tutto. Certamente oggi sappiamo molte cose sulla mente, sulla coscienza e anche sull'inconscio rispetto a, diciamo, cent'anni fa quando l'inconscio è stato scoperto dopo duemila anni di presunzione che la coscienza fosse il fondamento dell'essere umano. Se noi pensiamo al cogito ergo sum di Cartesio, di cui tutti siamo ancora un po' schiavi, un po' condizionati, oggi mi sembra quasi quasi una cosa da mettere nell'archivio della storia della cultura umana. Perché dire cogito ergo sum, che è una posizione un po' egocentrica, nasce dal fatto che ognuno di noi ha come percezione della propria psiche solo l'unica cosa che conosce, che è una parte del suo ego, tutto il resto non ne siamo consapevoli. Quindi dire cogito ergo sum parte l'idea che io vedo, intuitivamente percepisco il mio ego. Siamo arrivati con Freud e poi con Jung a scoprire che c'è un mare, un inconscio che è profondo come la fossa delle Marianne e che però è vivo, vitale, comunica continuamente con la coscienza senza che noi ne abbiamo una percezione diretta, se non qualche frammento attraverso i sogni, ma anche attraverso qualche volta le intuizioni artistiche, le intuizioni scientifiche. C'è un premio Nobel famoso della medicina degli anni 30, del 39 mi pare che sia, di Otto Levy, che è il primo che descrisse che la trasmissione dai nervi al cuore era chimica e non elettrica. Bene, è chiaro che era una mente ormai pronta e preparata a fare il passo finale, ma il disegno dell'esperimento gli è venuto in mente in un sogno. E lui l'ha sognato per tre notti di seguito finché a un certo punto svegliato si è registrato tutto il sogno e con quell'esperimento ha vinto il premio Nobel. Lo stesso Cartesio... Non è stato un allievo di Freud per caso. No, no, posteriore, ma lo stesso Cartesio, quando lui ha cominciato a formulare la dottrina del dubbio e tutta la metodologia cartesiana, dice testualmente che in due sogni ha avuto l'illuminazione di come fondare la nuova scienza. Noi abbiamo questa misteriosa relazione fra la vita cosciente e il sonno, che il sonno non è che si spegne tutto, il sonno è un'attività importantissima. Sai che cosa non ho detto? Non ho detto che sia anche studioso di ipnosi. Beh, anche questo fa parte delle stanze della mente non convenzionalmente conosciute. E noi viviamo in questo mistero che poi è un mistero che troviamo anche nei miti, a partire dai misteri leosini della Grecia. di questa alternanza di sonno e di veglia, di vita e di morte, che sono i due paralleli molto diversi ovviamente come implicazioni, ma che sono i due paralleli di questa alternanza tra la coscienza e l'incoscienza. Dobbiamo dire che ciascuno di noi ha questi due livelli. Sì, sì, e abbiamo ignorato e ancora oggi sottostimiamo l'importanza di tutto ciò che non è cosciente nella nostra vita di tutti i giorni, compreso quello che sono le decisioni. Dobbiamo dirlo ai telespettatori, perché noi parliamo di un linguaggio che è un po' tanto scientifico, però dobbiamo fare dei riferimenti classici. Noi, consci di questo, ci siamo dedicati alla rianimazione, che non è una rianimazione, è un riportare a un livello di coscienza da un altro stato di coscienza, riequilibrando ovviamente determinate funzioni corporee. Allora, quando noi lottiamo contro la cosiddetta morte, che è in realtà la perdita di coscienza, noi non lottiamo contro la perdita di coscienza, lottiamo contro una non coscienza cosciente. Chi lo sa? Quando sappiamo che il paziente... Tant'è vero che insegniamo ai nostri infermieri a dire non parlare, non dire parolacce, non fare riferimenti, perché può rimanere dentro del paziente. Allora, c'è una cosa fondamentale che spesso è stata sottostimata, sempre dalla posizione della cultura egocentrica, fisiologica che abbiamo avuto nel secolo scorso. La coscienza io la posso desumere, quella degli altri, solo dalla comunicazione. Se tu adesso non mi dici quello che pensi, anzi tieni gli occhi chiusi e non dici più nulla, non c'è nessuno al mondo che non possa dire che non sei in coma, che hai perso coscienza. Quindi, se il paziente non comunica, io ho poche informazioni sul suo stato di coscienza. Allora, questo, nelle condizioni limite, tra la coscienza, il coma o gli stati minimi di coscienza che troviamo in rinimazione, è possibile che io penso che il paziente sia inconsciente, ma in realtà qualche cosa percepisca. E questa è la necessaria cautela da una parte di comportarsi in maniera corretta e dall'altra di guardare il paziente con molta attenzione per capire se e quando comincia a esserci un qualche cosa che se non ci sto molto attento mi sfugge. Questa è la problematica proprio dell'emergenza dallo stato vegetativo. Credo non sia capitato nemmeno a te. In 40 anni di professione, il closed-in, il chiuso dentro, a me non è capitato proprio di vederlo. Io ne ho avuto due o tre. Io ho avuto la netta sensazione in un paio di casi, però non ho avuto il riscontro scientifico. Io sì. A livello dell'occhio. Ne ho avuti due o tre che abbiamo studiato, pubblicato. Però tu l'hai studiato, l'hai avuto. Però credo che capiti di più a livello di cerebropatia vascolare, insomma. Sì, diciamo, la sindrome cosita del chiuso dentro, dell'occhio ed inc, che è una bruttissima sindrome, molto rara per fortuna, nasce proprio da un insulto vascolare nel tronco cerebrale, per cui il paziente è completamente privo di motilità, però è perfettamente cosciente. Quindi non comunica e tu puoi scambiarlo. E c'è un caso che è sembrato simile, quello di Catania, che si è probabilmente rivascolarizzato negli anni, che ha raccontato moltissime cose dette attorno a lui nel suo letto e poi le ha raccontate. E certo. Quindi questa cosa... E qui ci sono alcune cose che a volte sono inquietanti, ci sono delle testimonianze scientifiche rarissime, ma molto inquietanti su quello che è l'aspetto della coscienza, e il rapporto tra la coscienza e il cervello e chissà quale dimensione misteriosa che... Quindi noi stiamo parlando di qualche cosa, lo ricordo ai telespettatori, che ha rapporto con il confine della vita, quando il confine della vita si rapporta a una confine di coscienza e di rapporto con l'ambiente. Però stiamo dicendo che in questo momento di confine non sempre è morte, ma spesso è una vita ai limiti. Ai limiti. Ecco, non possiamo dire... Che ha delle sue esperienze possibili e che noi non vediamo finché non si racconta il paziente. E allora il tuo libro parla di quei casi che sono riemersi e di che cosa hanno detto. E che cosa hanno vissuto quando noi li pensavamo. Andiamo avanti ancora però sulla curiosità scientifica che ti ha spinto a scrivere questo libro. Ma è una storia lunga, come molte cose... Io non posso dire quando è cominciato questo libro, nel senso che sicuramente c'è un momento in cui ho deciso di cominciare a scriverlo. Ma ci sono dieci anni prima di cose latenti che cominci a fare, che cominci a costruire. Hai qualche volta la sensazione dietro le quinte della coscienza, tu stesso, di dire avrei voglia di scrivere qualcosa, forse vale la pena, è un argomento in cui hai bisogno di comunicare quello che senti, quello che trovi. diciamo che io mi sono occupato per trent'anni, come tu hai detto, di comi, di stati vegetativi, di rianimazione, di morte cerebrale. Quindi ho vissuto sempre al confine tra la coscienza, la non coscienza, il coma, il recupero o il definitivo cessare dei pazienti che muoiono. E un elemento è stato del tutto causale che mi ha portato a questo libro, perché, l'ho anche scritto in uno dei capitoli, devo citare il professor Cima, direttore del Dipartimento di Farmacologia e Anestesia, che era il mio capo dipartimento, alla fine degli anni 90, un giorno, una mattina, mi telefona e mi dice, facco, a lei che piacciono le cose strane, visto che mi occupavo di medicina cinese, di tutte queste cose, ho trovato due articoli che vorrei il suo parere per che cosa, ed erano un articolo molto bello di Pimban Lommel, famosissimo, sulle esperienze di premorte, e un articolo di Blanke che parlava delle esperienze di uscita dal corpo cercando di capirne i meccanismi neurofisiologici. Era talmente bello, interessante la cosa di cui avevo letto anni prima altre cose, che ho cominciato a studiarlo sistematicamente, cominciare a raccogliere pazienti, a raccogliere tutta la letteratura, finché mi sono trovato, diciamo, nel 2007, grosso modo, a dire, ma forse di tutta questa cosa vale la pena di fare una buona riflessione e cominciare a riprendere proprio la valutazione. In ordine, insomma. E l'ho messa in ordine. Anche perché ci sono aspetti molto interessanti come interpretazioni neurofisiologiche, biochimiche, eccetera, anche se sono solo ipotesi che non esauriscono e non dimostrano cosa sono queste esperienze. Ecco, noi dobbiamo raccontarlo ai nostri telespettatori. Tu come rianimatore, noi come anestesisti rianimatori, in realtà, quando conduciamo un'anestesiologia corretta per una buona analgesia chirurgica, noi in realtà mettiamo in stato di non percezione del dolore, ma in stato di alterata coscienza, per cui non sentano, non capiscono ciò che viene detto in sala operatoria. Per un sonno farmacologico. Per un sonno farmacologico. E molte volte questo sonno farmacologico, specialmente con nuovi farmaci, e specialmente con delle induzioni particolari o dei risvegli fatti in maniera particolare, hanno dei sogni flash bloccati, lì si svegliano anche dicendo ma perché mi ha svegliato? Stavo sognando. Può succedere, seppur più raramente. Più raramente. Ci sono anche esperienze... Per quella chirurgica di meno, per quelle diagnostiche di più, probabilmente. E ci sono esperienze di premorte anche successe in condizioni critiche e in anestesia generale, quindi quando il cervello sembra essere già abbastanza protetto e non in grado di fare... Dobbiamo quindi dire che queste cose sono vicine alla nostra sensibilità. Sì. Mentre i neurologi fanno un po' fatica qualche volta a crederci, però si avvicinano anche loro. Non è tanto questione di neurologo o non neurologo, è un problema culturale generale, perché se tu pensi, la nostra cultura del XX secolo è stata una cultura che ha, finito di distruggere la filosofia tradizionalmente intesa o perlomeno messa in un momento di grande impasse, cosa che non mi turba, perché ogni grande crisi serve per distillare cose nuove più interessanti. Abbiamo distrutto l'idea di anima. Sì. No, l'abbiamo proprio accantonata. Ci siamo portati a un fisicalismo, a un materialismo molto spinti nella presunzione che la realtà materiale, come io la vedo, così com'è, è la vera realtà concreta. Anche questo c'è molto da discutere, proprio da un punto di vista fisico, perché l'unica certezza che ho oggi è che la realtà è diversa da come ci appare. E anche la stessa realtà materiale, come la percepisco, è un prodotto della mia mente. Possiamo dirlo ai nostri spettatori? In questo momento noi siamo seduti su due poltrone, ma loro vedono noi su due poltrone, ma in un mondo del tutto diverso da quello che è in realtà, perché è un mondo televisivo. Sì, sì, non solo. Ma la poltrona, come la vedono, rossa è fatta così, è una forma con cui noi percepiamo, come codifichiamo noi le immagini. Cos'è il rosso nella sua essenza? Qual è il nucleo dell'esperienza? La rossità del rosso cosa significa? Come nasce nel cervello? È solo una frequenza elettromagnetica. È una frequenza elettromagnetica. Pensa solo, se noi avessimo al posto degli occhi due rilevatori di raggi gamma dalla nascita, come ci sembrerebbe la realtà? Totalmente diversa. Quindi noi la realtà fisica, come la percepiamo, la creiamo percependola. Ovviamente quello che noi percepiamo riflette la realtà, ma la realtà in sé è completamente diversa, è inesplicabile. È quello che nel buddismo viene chiamato vacuità e questo è molto più vicino alla fisica quantistica e alla fisica del XX secolo di quanto non siano le nostre consolidate certezze che sono certezze che io chiamo del realismo naif della coscienza ordinaria. Io, visto che hai citato la fisica quantistica, mi va il pensiero riconoscente a un padovano che si è interessato per primo della fisica quantistica applicando la medicina che era Getulio Talpo che ci è passato intorno, vicino ed è morto di un infarto, in provisione di pochi anni fa ed è stato un personaggio molto interessante. Senti, proseguendo nella percezione della realtà e nell'elaborazione della stessa a livello cosciente e a livello anche incosciente. La realtà a livello incosciente come ce la facciamo? Come la modifichiamo? Ma cosa intendi per la realtà a livello incosciente? Perché la realtà a livello cosciente è quella che noi leghiamo alla forma, al tatto, alla sostanza. C'è un problema fondamentale. A livello incosciente invece noi la deformiamo in qualche maniera la realtà in una maniera più evanescente. Allora, c'è una cosa qui riguarda, se fai per esempio un riferimento alla realtà del sogno per esempio. I sogni indecifrabili erano il cruccio di Freud di come riuscire a trovare la chiave per interpretare dei sogni incomprensibili. Allora, lo statuto del sogno, cioè il linguaggio del sogno è completamente diverso da quello della realtà cosciente. La mia sensazione è questa. Nel sogno e nell'inconscio noi viviamo di simboli. Un simbolo che cos'è? È un qualche cosa che tu puoi esprimere in un certo modo e che non puoi esprimere in maniera semplice in modo logico, analitico, razionale. Perché nel simbolo coesistono diversi livelli, diverse cose insieme, tutte sovrapposte l'una all'altra. Sta in piedi, è coerente, ma non è spiegabile in maniera logica lineare. Lo stesso nei sogni. Allora, nei sogni, se pensiamo ai classici meccanismi di Freud, del lavoro onirico, come lo chiamava, da cui puoi usare per decodificare, le cose vengono sovrapposte, vengono deformate, alcuni elementi vengono messi al contrario di quello che sono, altri si sovrappongono in un inscindibile. È come dire, se volessimo fare un paragone con un circuito elettrico per trovare la sintonia con il cervello in termini organici, è come dire, noi la coscienza lavora in serie con un processo analitico in cui passi da un circuito a un altro, da un condensatore a un altro. Mentre invece l'inconscio lavora come un processore in parallelo in cui ha tanti canali che lavorano contemporaneamente e quindi appaiono sovrapposti incomprensibili alla coscienza ordinaria anche se hanno un significato e una capacità di elaborazione che probabilmente è molto più rapida e superiore a quella della coscienza. Quindi potremmo in certo qual modo tentare di pensare alla nostra coscienza come un processo lento seriale che passa da A e arriva a Z passo passo più lento e con tutta la capacità critica e di verifica mentre l'inconscio lavora in parallelo e fa dieci lavori contemporaneamente. Come nelle fibre ottiche del telefono che passano dieci telefonate sulla stessa fibra ottica e tu con la coscienza puoi solo cercare di individuarne una per volta. Allora questo rende l'aspetto onirico così poco decifrabile così misterioso così ricco e così pieno di significato quando riesci a trovarne le chiavi. I nostri giovani che usano sostanze allucinotime sono alla ricerca di questo in realtà? Bisognerebbe chiederlo a ognuno di loro perché ognuno è un mondo diverso ognuno di noi è un mondo diverso. Allora la droga cosiddetta droga o le sostanze psicotrope in senso lato accompagnano l'umanità dalla preistoria. Sono state trovate tracce di funghi di peyotel ancora in America in siti archeologici di 3500 o 4 mila anni fa. la droga probabilmente era uno degli elementi importanti nella ritualità dei misteri leusini quelli dove si celebrava Demetra ancora nella Grecia antica. Facciamo una sorpresa i nostri telespettatori rimanete con noi fra due minuti dopo la pubblicità continueremo questo discorso molto interessante voi avete capito che stiamo andando avanti su argomenti che interessano l'intimo di ciascuno di noi la conoscenza e poi interessano la scienza tra due minuti dopo la pubblicità torneremo qui con il professore Enrico Facco Allora parlavamo di esperienze di droga eravamo rimasti ai misteri al Perù agli Incas questo agli Incas e ancora nelle religioni native dell'America Latina e anche tipo nella regione Buiti in Congo in tutte le culture sciamaniche lo sciamanesimo è quello che dalla preistoria ha permeato tutta questa ritualità e forse dallo sciamanesimo panasiatico secondo almeno l'ipotesi di Tonelli è gemmata da una parte la filosofia orientale e poi la filosofia occidentale con i presocratici Allora nel mistero e nel mistero veniva celebrato il culto di Demetra quindi il ciclo del grano e della riproduzione Demetra e Persefone Demetra la madre Persefone la figlia la figlia per sei mesi all'anno deve stare negli inferi sposata ad Adel quindi il dio degli inferi sostanzialmente il ciclo del grano della vegetazione che d'inverno sta sotto terra e poi emerge in primavera ma questo era non solo il ciclo delle messi ma era il rapporto veglia sonno il rapporto fra vita e morte ed eterno ciclo misterioso che non possiamo scotomizzare perché la realtà fondamentale in cui viviamo anche se non è nelle scienze galileiane studiabile il confine oltre la vita Allora nel mistero Leusini si beveva il ciceone che era una bevanda misteriosa come composizione ma probabilmente conteneva delle sostanze psicotrope qualcuno parla di funghi allucinogeni secondo l'ipotesi di Nencini potrebbe essere gli opioidi perché in alcune rappresentazioni Demetra non solo ha il fascio di spiga in mano ma anche un fascio di papave riguarda caso allora questo è l'uso rituale delle sostanze psicotrope che ancora oggi c'è nelle realtà sciamaniche con una ritualità rigidissima controllatissima e con fini spirituali con fondo di conoscenza quindi viene usato l'allucinogeno per aprire come una seratura per aprire queste stanze misteriose della nostra mente e del nostro inconscio in cui ci sono significati potenzialmente profondissimi e c'è tutta la spiritualità umana di cui nella scienza moderna non ci siamo occupati siamo occupati delle funzioni ordinarie del cervello e della mente però pericolosissime se usate al di fuori di un rigidissimo protocollo è un po' come per gli opioidi l'uso da strada e gli opioidi fatto per l'anestesia o per la terapia del dolore che se usato come si deve è terapia se tu lo usi solo per aprire il vaso di Pandora della mente in una situazione di disagio e per fare una fuga o trovare un surrogato di qualche cosa che non trovi può essere devastante allora la droga è devastante è pericolosa ma non è in sé nelle sostanze il pericolo è nella mente che lo usa come lo usa perché e come e quindi le stesse allucinogeni sono sostanze che possono essere preziosissime in terapia adesso cominciano finalmente a essere ammessi i farmaci a base di canna bis che è doverosissimo per i pazienti che altrimenti muoiono con dolori intrattabili con altri farmaci e non c'è niente di male nell'usarli correttamente a scopo terapeutico comunque si fa ancora molta fatica ad averla io ci ho messo due anni per farlo dare a una mia paziente adesso finalmente ce l'ho fatta con indicazioni ristrittissime ma fa parte della storia se tu pensi che fino a che non abbiamo avuto la morfina per via orale il metadone si poteva darlo solo al drogato che doveva disintossicarsi il paziente che moriva dai dolori non potevi darglielo se aveva un tumore perché era riservato e io dicevo al paziente senta adesso si droghi poi va al CERT e finalmente si fa la terapia perché l'unico modo paradossale per pensare di avere il farmaco era quello di essere un ex drogato quindi questo le leggi draconiane e tutto il resto riflettono i pericoli che ci sono nella società di un abuso ma fanno un po' letteralmente di tutte le erbe un fascio e finisce che poi non puoi fare quello che di utile terapeuticamente potresti fare con no quindi c'è secondo me da rivedere completamente tutto il capitolo anche quello di cos'è droga cosa non è droga che dipende più dall'uso e dal concetto che non della mente che non dalla questo nostro cervello è abituato quindi a percepire qualche cosa che noi chiamiamo realtà e ad un altro livello percepisce un qualche cosa che è un'altra realtà che non è realtà ma è una sua realtà benissimo ma anche la realtà più ordinaria quell'obiettiva è una nostra realtà soggettiva è un'immagine della nostra mente però ha dei modelli ha degli archetipi però perlomeno allora ci sono i nostri archetipi della psiche che sono inconsci profondi eccetera ci sono le nostre gestalt cioè i principi formali con cui noi più che scoprire le forme cerchiamo le forme nelle cose che vediamo le forme sono già dentro l'esempio più eloquente secondo me sono le costellazioni le costellazioni non esistono non c'è nessun legame fra le stelle sono solo le nostre forme a priori che scoprono la forma e con la fantasia ci trovi costruisci la costellazione dopo ordini anche l'universo visibile ma è un nostro modo di percepire non è nella realtà in sé anche la realtà più concreta è un modello della realtà non è la realtà quindi noi siamo molto più soggettivi viviamo in un mondo immaginario anche quando siamo rigorosamente pragmatici bisogna rendersene conto perché quello che noi vediamo è il prodotto di processi di codificazione della nostra mente di cui non siamo consapevoli e non siamo coscienti quindi noi ogni volta ogni epoca storica il cosiddetto suo spirito del tempo che è un modo di codificare la realtà che poi crolla inesorabilmente quando si cambia modello perché quella non sta più in piedi però alla fin fine le sensazioni noi le sensazioni della realtà e le sensazioni tattile visive o fattive eccetera tutti però poi le riconduciamo a delle frequenze di sensazione e quindi a dei modelli che sono abbastanza uguali per ciascuno di noi sì questo sì e tu hai le sensazioni che vengono dal mondo esterno però con l'immaginazione tu puoi viverle lo stesso anche quando non ce l'hai con l'ipnosi puoi viverle come se fossero reali e quando fai un sogno le vivi intensamente come se fossero reali pur in una realtà non così codificabile quindi c'è questo misterioso rapporto che secondo me è ancora misterioso tra la mente il cervello e la realtà esterna che noi abbiamo codificato in un certo modo nel ventesimo secolo abbiamo scoperto molte buone cose fondamentali su cui non c'è nulla da discutere è stato un grande secolo ma è ancora è un grande secolo ma è ancora più misterioso di quello che pensiamo c'è David Chalmers che è un filosofo contemporaneo che dice chiama la relazione mente-cervello l'arduo problema ancora non risolto e lui dice prendendo come metafora è ancora non è per niente chiaro come quel curioso budino grigiastro e untuoso che pesa poco meno di un chilo e mezzo che è il nostro cervello possa tradurre attività elettrica neurotrasmettitori molecole eccetera in esperienze sensazioni concetti ma anche arte musica tutto quel poderoso mondo della psiche è memorizzato che secondo me credo possiamo essere tutti d'accordo che va ben oltre come attività rispetto a quello che sono le necessità imposte dalla sopravvivenza della specie quindi l'aspetto evoluzionistico darwiniano non spiega tutte le manifestazioni spirituali le cose più profonde più importanti per cui l'uomo è l'uomo e non è che non possiamo negare se no neghiamo noi stessi l'umanità la cosa più bella la cosa meravigliosa è che possiamo immagazzinare molto di più di quello che vediamo perché lo elaboriamo e lo possiamo ritirare fuori nel tempo e anche rielaborarlo un'altra volta con alcune tecniche psicoterapeutiche compresa ma non esclusivamente l'ipnosi possono emergere dei ricordi assolutamente banali insignificanti di età come il giusto stimolo spesso gli stimoli olfattivi che hanno una molta viscera delle volte ti viene in mente un dettaglio di quando eri bambino di una cosa banalissima che non varrebbe neanche la pena di ricordare che l'hai dimenticata non è più accessibile però in quel momento si apre quella stanza della mente e ti viene fuori un dato di archivio insospettabile è quello che dispiace e che poi arriva mister alzheimer e ti rovina tutto ma sai mister alzheimer noi comunque lo vediamo da fuori no? per cui come diciamo prima la coscienza vedi le riduzioni vedi le alterazioni quello che non è comunicato non comunicabile non lo vedi e poi siccome anche l'alzheimer finisce perché finisce la vita noi non sappiamo quale dimensione che è quello è il supremo problema della condizione umana io dico scherzando a volte che l'alzheimer in fondo ti permette di fare una vita allegra perché conosci tanta gente nuova ogni giorno perché non ti ricordi di averla vista il giorno prima però bisogna vedere che tipo di è certamente un deficit drammatico non è da scherzarci sopra però noi teniamo sempre presente che noi cataloghiamo codifichiamo e conosciamo quello che vediamo da di fuori che ci viene qualche modo comunicato pensa anche solo nella terapia del dolore quanto è stato sottostimato il dolore negli anni nei decenni passati perché perché se non lo comunichi non esiste e io medico lo sottostimo se il paziente non me lo dice e nei bambini diventa più drammatico ancora perché il bambino un bambino di un anno come te lo comunica è la mamma che capisce con la sua empatia se piange perché ha mal di pancia se piange perché fa un capriccio se piange perché sta soffrendo di qualche cosa noi lo vediamo dal di fuori piange vabbè vuol dire che si è svegliato dall'anestesia si è svegliato bene siamo contenti che non sia ancora depresso ma ci sfugge tutto quello che c'è dietro le quinte di una non comunicazione di un vissuto che può essere fondamentale adesso arriviamo al confine dell'aldilà arriviamo alle esperienze di queste persone che hanno un arresto cardiaco un'embolia un trauma cranico un evento per cui a un certo punto perdono coscienza vengono in qualche maniera rianimati trattati e poi a un certo punto raccontano nella riemersione magari a distanza di tempo raccontano che si sono visti il loro corpo giù là in basso loro si vedevano dall'alto c'era il tunnel di luce c'era un prato c'è sempre un prato c'è sempre una luce c'è sempre un senso non sempre ma in gran parte sono molti elementi e ogni paziente ha una combinazione dei diversi elementi poi c'è questo grande senso di pace di benessere anzi di voglia di rimanere in benessere è quasi la violenza dell'essere richiamati alla vita anche perché torni in un corpo che non è messo benissimo quindi sicuramente più sgradevole di prima e dopo a un certo punto ti raccontano queste cose tu hai raccolto una serie di cose che tanti di noi hanno visto hanno sentito ma tu le hai raccolte in maniera organica e anche qui ci sarebbe da dire l'organico quindi la tua realtà però in realtà è l'esperienza dunque le hai raccolte dal punto di vista scientifico esatto però cosa ne trai da questo e raccontaci un po' questa esperienza allora queste esperienze sono straordinarie accompagnano la vita dell'umanità da sempre se noi pensiamo dal mito di Erd di Platone dell'uomo messo sulla pira al soldato morto che poi invece si riprende e racconta di essere stato aver avuto grandi visioni eccetera abbiamo personaggi illustri che hanno avuto queste esperienze di premorte a partire dallo stesso Jung altri personaggi nella storia recentemente ho scoperto che Schoenberg il compositore di musica decafonica ha avuto un arresto cardiaco nel 45 e non nel 45 è l'opera 45 quella che ho composto subito dopo che si è ripreso da questo noi abbiamo un nostro collega che è stato rianimato a lungo più di uno cambiano ma sono esperienze hanno questi elementi che sono universali in tutte le culture poi il tunnel lo vede il 25% dei pazienti l'esperienza di uscita dal corpo è tra il 30 e il 40% la luce è un po' più frequente la comunicazione con esseri di luce esseri superiori spesso non definiti qualche volta corrispondono all'iconografia della religione di appartenenza ma in una minoranza di casi e questo è abbastanza interessante per dire non è proprio solo l'intrusione dell'educazione della cultura e il senso di grande pace anche se esistono alcune esperienze con alcuni elementi di tipo chiamiamolo tra virgolette infernale che però più spesso rimangono come parte dell'esperienza e non un'esperienza come puoi avere le cosiddette bad trip nelle esperienze allucinogene che sono terrificanti e ti lasciano addirittura dei disordini post-traumatici da stress degli incubi che ti rimangono con dei flashback allora queste esperienze sono diciamo nelle esperienze di premorte diciamo naturale queste mediche invece siamo più verso un senso di pace positiva quello che è straordinario è che sono racconti coerenti ben strutturati con elementi universali quindi potremmo dire in senso junghiano archetipici e che non si prestano a una sola interpretazione riduttiva in termini di disordine cerebrale di alterazioni di neurotrasmettitori o di somministrazione di farmaci perché lo sappiamo già dagli allucinogeni un allucinogeno non ti dà un'esperienza standard ti dà un'esperienza che cambia in funzione del momento dello scopo di come ti senti di mille fattori e del tuo stato del momento per cui anche nell'ambito dell'allucinogeno in cui hai un farmaco che ha un'azione specifica ben conosciuta su determinati recettori le esperienze sono largamente variabili dipendenti dai fattori psicologici e ambientali e non solo dalla cosa in sé quindi e non ci sono fino adesso nessun lavoro che possa aver studiato concretamente anche perché è difficilissimo pensare di farlo non credo che sia neanche possibile che un certo farmaco ti dà queste cose le informazioni indirette ce le abbiamo dall'uso per esempio degli opioidi degli altri allucinogeni o a scopo sperimentare nel soggetto sano o nei pazienti che fanno terapie del dolore eccetera in cui le esperienze non corrispondono per niente come contenuto a quelle di premorte se fosse poi un disordine cerebrale siccome le lesioni sono del tutto casuali come si evolvono e come sono mi aspetterei quello che è il delirium che esiste il delirium in terapia intensiva che è fatto di una cozzaglia incoerente di cose diverse spesso con alterazioni del giudizio con racconti frammentari che poi vengono completamente dimenticati con grande angoscia con cose terrificanti è agli antipodi il contenuto e la fenomenologia rispetto alle esperienze di premorte quindi ridurle solo a questo vuol dire cercare di trovare una spiegazione semplice organica per non porsi il problema non è così l'esperienza di premorte dipende dalla cultura la cultura prevalente di tipo cattolico mediterraneo eccetera la vede come il senso del passaggio all'aldilà nel senso paradisiaco però in realtà anche quelli non credenti esatto questo è fatto gli altri allora ci sono se uno incline al buddismo pensa che questa sia una traccia di dire allora c'è la rincarnazione esco dal mio corpo e poi chissà dove vado a reincarnarmi il cattolico può pensare queste sono le porte per andare in paradiso eccetera l'ateo che fa questo tipo di esperienza comincia a rivedere la sua posizione è talmente intense e significative che tutti religiosi e non religiosi entrano in una fase di rielaborazione profonda della loro vita e che volte cambiano ma cambiano in senso positivo tutti tutti nel senso che può esserci un periodo difficile di adattamento anche perché queste esperienze fai fatica a raccontarle magari non vengono capite io ho avuto due pazienti che le hanno raccontate al medico di base questo gli ha dato degli antidepressivi e degli ansiologici perché vuol dire che c'è un esito del danno che ha avuto come se necessariamente quello che non è la realtà di routine concreta è da visionario da psicopatici non è così e attraverso una fase poi di riadattamento che può essere anche difficile con anche degli elementi di ansia di disordine uno arriva intanto a superare la paura della morte questo è quasi costante perché ci si rende conto che la morte è diversa da come noi pregiudizialmente la vediamo perché non sappiamo cosa sia in fondo e cominciano ad avere una visione più empatica del mondo rendersi conto dei valori delle cose avere meno interessi per le cose materiali essere più altruisti più interessati agli altri e più sono episodi che migliorano che migliorano proprio la consapevolezza è il contatto con il mondo questo può provocare per esempio anche un aumento dell'incidenza di divorzi perché provi a immaginare una persona tipo un imprenditore dedito solo al lavoro ad accumulare soldi e tutto quello che è negli aspetti anche positivi del suo lavoro eccetera che improvvisamente diventa più empatico cambia completamente i valori cioè non è più quello che io ho sposato può crearsi una frattura proprio di cambiamento culturale nella coppia questo può creare difficoltà anche di rapporto di coppia come effetto collaterale quindi però quello che è straordinario è che tu ti aspetteresti che uno che ha rischiato di morire che ha avuto un'esperienza che noi riteniamo essere brutta dovrebbe avere un disordine post-traumatico da stress semmai e da avere problemi invece no invece è esattamente il contrario allora c'è un significato profondo un significato reale un aumento di consapevolezza e di cambiamento positivo nello stile di vita non è questo il delirium né nel contenuto formale né negli effetti né in tutto il resto e questo rimane interessante in letteratura c'è qualcuno che dà una spiegazione a questo? in che termini però perché la spiegazione la puoi dare in termini organici in termini psicologici in termini psicologici sicuramente danno delle spiegazioni ci sono ma a livello organico non c'è a livello organico il grande malizia tu ricorderai il farmacologo il nero farmacologo romano che adesso sarà nonnissimo mi ricordo che parlava era uno dei primissimi che parlava di questo parlava di rilascio massivo di endorfine e lui lo spiegava così questa mi sta benissimo è vero nello shock nel collasso mi sta benissimo è un'ipotesi ci sono lavori sul rilascio delle endorfine nello shock emorragico eccetera c'è tantissimi dati sugli aspetti psicologici dell'uso degli opioid in terapia perché possono dare anche fenomeni di tipo disforico addirittura di delirio in alcuni pazienti ma solo tu quando cambi la dose in certi momenti nessuna delle esperienze da opioidi ha le caratteristiche delle esperienze chiare di premorte che succeda questo nel cervello quando uno è è un'ipotesi perché per quanto lo sappiamo non sappiamo quanto fino a che punto e se quello è responsabile dell'esperienza possono essere altri neurotrasmettitori come l'agmatina che è meno conosciuta che può dare possibili aspetti di questo possono essere tutti gli altri connessi con i recettori della serotonina su cui agiscono anche gli allucinogeni allora che una condizione critica possa aprire le porte di alcune stanze della mente sì ma che quello che è il contenuto che è quello che noi vediamo fenomenologicamente non corrisponde a quello del delirium da farmaci del delirium da lesioni cerebrali eccetera da un significato profondo interessante e ricco dal punto di vista spirituale non possiamo to cure ridurlo solo a quello perché non ci sta come descrizione fenomenologica facciamo un'altra pausa cari telespettatori entreremo fra due minuti nella fase conclusiva di questa bellissima argomentazione del professor Facco dopo la pubblicità ciò che affascina di questo libro è la raccolta delle esperienze cliniche che hai fatto e abbiamo sempre detto di esperienze positive tutte raccontate in positivo con grande calma grande valore positivo per l'individuo per la vita futura dell'individuo quindi chi va chi ha esperienza di premorte ha sensazione di essere al confine dell'aldilà nella riemersione anche con la violenza del dover rientrare però in realtà racconta di un momento di grande pace di grande calma sono racconti straordinariamente belli assolutamente affascinanti raccontaci allora e l'ho messo nel libro proprio perché al di là di fare l'analisi della fenomenologia e degli aspetti scientifici proprio perché uno toccasse con mano il vissuto del paziente perché è fondamentale questo per sentire e capire la cosa e anche perché a seconda dell'atteggiamento personale delle convinzioni personali uno può farsi un'idea completamente diversa dagli altri cioè c'è l'ateomaterialista che pensa istintivamente guarda che roba questo è il cervello in condizioni critiche che fa ste robe come fatto organico chi abbia tendenza a pensare che esiste la reincarnazione fatto che è più frequente di quanto non si pensi nonostante la nostra cultura sia di matrice cattolica perché c'è almeno il 20% della popolazione che pensa che la reincarnazione è plausibile e un altro 20% che non sa ma ritiene che forse potrebbe essere quindi non è un problema istinto anzi forse sarebbe anche da riconsiderare dalle basi vabbè pensa che magari questo sia la vita continua che magari sia un segno che esiste la reincarnazione oppure chi è più convinto della fede cattolica che pensi che sia la vita che continuano nella dimensione dell'aldilà in realtà queste esperienze non dimostrano nulla suggeriscono una cosa del genere certamente non lo smentiscono ma non lo dimostrano non è sufficiente farle la potenza scientifica noi non possiamo dirlo semplicemente la scienza si ferma un attimo prima perché è oltre il campo di competenza della scienza quindi rimangono in piedi come cose significative che vanno indagate in termini se vogliamo filosofici psicologici culturali e non certo in termini diciamo delle scienze empiriche classiche come perché siamo oltre confine e non è patologia e non è patologia secondo me perché sono troppo ben ricordate coerenti lucide il paziente si rende conto che un'esperienza non la scambia per realtà non ha lo statuto del delirium non è possibile liquidarle troppo facilmente in termini che un ruolo delle disfunzioni delle organiche tutto il resto ce l'abbia come può avere l'allucinogeno o ce l'abbia il ciceone nelle ritualità dei misteri illusini quindi è il momento che si apre quella stanza della mente ma non è privo di significato un caso che ricordi di più un caso che io amo molto è un persona molto simpatica un imprenditore non veneto che allora racconto il fatto dal di fuori dalla medicina il paziente è nel suo ufficio nella sua fabbrica a un certo punto ha un aneurisma della orta che si rompe quindi emorragia massiva perde pressione perde coscienza stato di collasso profondo chiamano il 118 a sirene spiegate lo portano in policlinico e viene operato urgentissimamente e riescono a salvarlo per il rotto della cuffia questo è il racconto clinico della realtà obiettiva il paziente chiaramente lui non può sapere di avere un aneurisma che si rompe si sente male poi dice io stavo in ufficio a un certo punto tutto buio mi trovo in un luogo indefinito buio ma stavo benissimo una serenità un benessere una pace nessun dolore nessun dolore che non avevo mai avuto in vita mia così una roba straordinaria sento una voce senza aver visto nessuna visione che dice era un uomo di 60 anni si è rotto un aneurisma tutto regolare ha concluso il suo ciclo questo è la sua messa ma che non lo turba affatto perché è in questo luogo dove sta benissimo anche se è così poi a un certo punto mi sento come risucchiato come se fosse e mi trovo in un corridoio di un ospedale e vedo due infermieri con la barella che corrono all'impazzata verso la sala operatoria e ho pensato ma guarda che stupidi questi vanno in sala operatoria e mi lasciano qua poi si è reso conto che il suo corpo era sulla barella dopodiché chiaramente entrano in sala operatoria viene addormentato e finisce anche l'esperienza quindi questa a me piace molto perché è un'esperienza molto genuina di uno che ha fatto un'esperienza di uscita dal corpo e non se ne è neanche reso conto non è come gli altri che ti raccontano io ero uscito dal corpo mi vedevo dall'alto come spese no io ero in corridoio e ho pensato ma che stupidi gli infermieri che mi lasciano qua e vanno via con la barella vuota finché non si è reso conto questo paziente che è stato poi investigato subito poco dopo il risveglio dai miei colleghi di un'altra regione non qua e me l'hanno comunicato immediatamente dopo sono andato a intervistarlo per fare tutta l'analisi fenomenologica dell'esperienza c'è un dato che è molto interessante che però purtroppo non ho potuto avere le testimonianze perché a me era passato un certo tempo e non potevo essere certo che fossero vere nei sensi oppositivi lui si è svegliato e aveva la netta chiara sensazione di conoscere la logistica dell'ospedale cioè dove era per esempio la stanza del primario non ci aveva messo piede in vita sua e dice dopo quando sono tornato per i controlli dopo che sono guarito e tutto mi sono ritrovato e mi conoscevo e conoscevo tutto il posto eccetera questa è una sua sensazione potrebbe essere stato un fenomeno di déjà vu per carità non ho potuto avere la testimonianza perché non ho trovato persone a cui lo abbia confidato che potessero dirmi sapeva dove era e quello che era perché se no sarebbe stato abbastanza scontentante quindi grande serenità grande serenità questo è uno poi ci sono tante varianti ma gli elementi in comune sono questi senti questo distacco dal corpo e rientrare nel corpo lo vivono tutti sempre con serenità con distacco sì dunque allora è un diciamo in termini con un po' di atassia in termini psichiatrici no è stato tentato inizialmente di dire sono fenomeni di autoscopia no l'autoscopia che cos'è è un fenomeno psichiatrico in cui uno si vede sdoppiato no però non corrisponde neanche questo fenomeno logicamente all'autoscopia perché l'autoscopia psichiatrica uno vede un'immagine sbiadita a volte solo il tronco e la faccia non tutto il corpo sbiadita e in forme qualche volta vede addirittura gli organi interni ma è una cosa molto strana in cui la coscienza è spesso centrata sull'immagine che tu vedi come se la coscienza fosse in quello che tu vedi o in una situazione di incertezza fra queste due mentre invece le esperienze di auto body experience sono quasi costantemente tranne questa variante del paziente che ho appena citato il paziente sale si vede dall'alto vede il suo corpo sul letto di pronto soccorso o quello che è vede i medici che lo rianimano quindi vede esattamente la scena che sta succedendo è diverso completamente e la coscienza è centrata sulla coscienza che sta sopra il soffitto quindi è totalmente diverso come fenomenologia dall'autoscopia ci sono pochissimi casi io ne ho trovati un paio di cui uno raccontato su Lancet che è una delle più grosse riviste più serie riviste mondiali di medicina quindi non è fabbricato facilmente non si può confutarlo conosco anche l'autore è una persona molto seria di un paziente che non solo è uscito dal corpo ha visto tutto quanto lo racconto dall'inizio molto brevemente perché è molto breve sostanzialmente questo uomo entra in sala di pronto soccorso lo devono intubare perché è un arresto cardiaco l'infermiera prende la dentiera cosa che si fa normalmente per prima di intubare la mette nel cassetto del calarello di rianimazione poi tutti si dimenticano un'ora e mezzo di rianimazione e avanti finché questo viene messo in coma in terapia intensiva dopo 3-4 giorni comincia a svegliarsi viene messo in reparto non trovano la dentiera quindi il fatto nella routine è banalmente assicurativa l'infermiera che era l'impronto soccorso quella che le ha tolto la dentiera una mattina la mettono a dare la terapia in reparto entra nella stanza di questo come entra nella stanza questo la guarda a fare lei sa dov'è la mia dentiera ha testimoniato dov'era la dentiera l'hanno trovata e ha testimoniato tutto quello che era successo i dettagli della sala operatoria che non poteva avere visto della sala di pronto soccorso che diceva io ero uscito dal corpo e vedevo tutto dall'alto e l'ha testimoniato quindi questo se è vero ed è io sono convinto che sia vero non mi sembra che abbiamo solo due casi in letteratura che io conosca ben documentati bisogna aspettarne qualcun altro ma se così fosse e se si documenta una cosa del genere bisognerebbe riconsiderare dalle basi le nostre conoscenze di fisiologia perché per noi è inconcepibile che la coscienza possa staccarsi dal corpo e vedere da fuori e vedere da fuori anche se per esempio è un fatto banale ammesso nel buddismo tantrico e in altre dottrine e non della nostra cultura quindi i tuoi rapporti con gli psichiatri su questi argomenti ma io ho rapporti buoni con tutti mi tollerano tutti non mi ha ancora messo nessuno sotto psicofarmaci perché pensano che in fondo sono innocuo e non sono pericoloso per la società ma devo dire che queste cose qua fanno un po' fatica io sono sempre stato tu sai un po' naozzati mi sono sempre occupato di cose non convenzionali perché sono quelle più curiose più interessanti sto trovando non solo da psichiatri ma da volte da chirurghi da persone molto concrete molto più inclini a pensare che esista solo la realtà scientifica convenzionale che quando ci parliamo di queste cose dicono ma forse lui può capire se lo tiene per sé mi raccontano esperienze di tonalità a volte francamente parapsicologiche che hanno vissuto e che non sanno come spiegare ci sono tanti fenomeni allora ci sono tanti fenomeni che non emergono e che noi non sappiamo non se ne parla perché sono contrari allo spirito del tempo e uno ha paura di essere preso per matto per esempio le stesse esperienze di premorte nell'immaginario collettivo sono cose strane dubbie chissà sporadiche invece fino al 18% dei pazienti in arresto cardiaco hanno queste esperienze quindi è un fatto relativamente frequente allora senti intanto ti ringraziamo a nome dei nostri telespettatori dell'editore e dei telespettatori per averci fatto questa bella escursa questa bella lezione ricordiamo questo testo la regia adesso farà vedere la copertina del libro ecco esperienze di premorte scienza e coscienza e confine tra fisica e metafisica editrice edizioni altra vista è un libro che va letto e va goduto e va ovviamente acquistato per il piacere di rivedere risentire tutto ciò che hai detto adesso qui sintetizzato in questa trasmissione ti ringraziamo di cuore e speriamo di averti presto ancora qui come nostro ospite ringrazio i telespettatori per l'attenzione e ricordatevi Triveneta è a vostro servizio questa è una trasmissione di servizio imparate qualche cosa della medicina anche di quella non convenzionale che va oltre va ai confini dell'aldilà alla prossima ciao